Il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza ha disposto l'esecuzione di un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione, dell'abusivismo commerciale e di altre forme di illegalità. L'iniziativa interessa anche la provincia di Foggia. Il piano di interventi che ha interessato l'intero territorio regionale si colloca nell'ambito della missione istituzionale del corpo finalizzata alla tutela del mercato dei beni e dei servizi nonché al contrasto di tutte le condotte illecite connesse alla contraffazione realizzata mediante una costante azione di controllo economico del territorio. L'operazione ha registrato già l'esecuzione di 116 interventi nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre 1,2 milioni di articoli con la denuncia di 41 soggetti all'autorità giudiziaria dall'inizio dell'anno. Sono oltre 5 milioni i prodotti sequestrati dalle fiamme gialle in tutta la Puglia. L'attività ispettiva ha consentito di individuare nell'area del sud-est barese una stamperia clandestina dedita alla produzione di lucidi riportanti noti marchi contraffatti pronti per essere applicati sui capi di abbigliamento nonché di sottrarre dal mercato dell'area della provincia di Lecce un ingente quantitativo di giocattoli, bigiotteria ed accessori di moda pericolosi per la salute.